eccoci qua ragazzi una diciamo sorta di novità che credo di non aver mai fatto sul mio canale forse una sola volta sarà capitato perché è una console che purtroppo non ho vissuto appieno e fa parte comunque del gruppo nintendo di cui io non sono grande esperto ma comunque adesso mi ci ritrovo a riproporla questo grazie alla valfreia che sta quasi per tornare cioè è andato un attimo a fare un servizio ma sta per tornare anche in cuffia che mi ha richiesto la bella e la bestia beauty and beast un gioco platform scusatemi non ho tossito fino a momo che ho iniziato la live mi è venuta da tossire dicevo un gioco platform che sembra molto carino anche se molto molto difficile però sul mio canale twitch linkato sempre in basso insieme ai social potete richiedere al raggiungimento di tot punti quelli là che si guadagnano nella chat al raggiungimento di tot punti potete richiedere un gioco da farmi giocare in questo caso susi mi ha chiesto appunto la bella e la bestia e quindi niente ragazzi io sono pronto con lo snes prontissimi a giocare il gioco ragazzi il segreto non è semplice è molto molto complicato proverò proverò però dovrebbe durare poco eccomi eccola eccola qui siamo in diretta in diretta di registrazione pure buonasera buonasera buongiorno o school non riesci a farmi sentire l'audio di gioco eh no eh non si è sentito perché zodiac ha mandato l'audio ho detto c'era un principe molto egoista che si sento vabbè la aspetta ti si sente bassa aspetta che finisce sta roba e e spieghiamo la storia storia che ovviamente nessuno conosce figurati ah tu non la conosci la storia della bella e la bestia? si si un po' si dai che sto scaricando code wars zodiac disturba no ma lei non disturba mai ecco qua dai è bellissimo allora ragazzi io metto 5 vite la difficoltà normale e inizio il gioco perché è veramente complicato non mi sembra valorant no infatti valorant non ci siamo riusciti a giocare perché si legge ancora il titolo di valorant? no allora il gioco eccolo qui ragazzi spiega dai su si spiega la storia della bella e la bestia lei mi ha richiesto il titolo tu non lo conosci? non conosci la storia della bella e la bestia? allora di quello che mi ricordo io c'è questo principe che viene legato in questo castello da una strega una sorta di strega c'è stai sbagliando no vedi non mi ricordo c'è questo principe nel castello che in una notte tempestosa praticamente gli busta alla porta una vecchia signora che gli chiede ospitalità lui rifiuta di ospitarla ma in realtà la vecchia signora era una bellissima fata che per punirlo gli dona una rosa e lo trasforma nella bestia e gli dice che sarebbe rimasto bestia se non avesse capito cos'è l'amore prima della caduta dell'ultimo petalo della rosa insomma mi ha tirato qui con falsa promessa eh io speravo di giocarci abbiamo aspettato pure che il gioco andasse ma purtroppo dicono che c'hanno i server sovraccarichi Zodiac e quindi non va e niente giochiamo come si chiama il candelabbro? non mi ricordo vedi già sto prendendo bot perchè sto gioco è difficile Lumiere qua devo vedere Zodiac l'ho scelto io questo gioco vedi com'è bello qua non si può andare sto già per morire se non reagisce se non reagisco il pipistrello non va indietro ragazzi il gioco è difficilissimo mi scordo sempre che qua ci stanno sti ragni di merda che escono all'improvviso ma quanto è bella la bestia però io sono una bestia uomo di neandertal no e dai lo faccio a voce perchè non lo sento in live uomo di neandertal è un gioco un gioco raga difficilissimo difficilissimo breve ma intenso va a fare il salvataggio qua giochi dello snesser no bastardi proprio non ci somiglia guarda guarda i tendini ah non li dai colpi abbassato perchè ci provo sempre ovviamente è morto io faccio un caricamento eh vabbè ma che palle no ho salvato invece di carica vabbè sono un coglione sodioac perchè non lo provi a installare anche tu Valorant si andiamo tutti a giocare a Valorant ah perchè forse il pc vabbè ma quello comunque non è un gioco pesante 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 ma devo far forza qui qui cos'è ma se no è bella la musica è bella la musica è vera bella la bestia eh ma che cacchio ma sti topi guardali guardali si attaccano proprio va la fan va la fan va la fan va la fan perchè probabilmente prima di poterci giocare dovevi annaccia miseria imparare ogni affratto a me muo niente ragazza oh niente ragazza non riesco non riesco a farlo senza che prefero ciao macete buonasera bello proprio prendere danni così allora lo specchio non so cosa fa io lo sapevo io lo sapevo niente sono un coglione niente ce la faccio ce la faccio proprio come si vede che non sono avviso ai giochi dello SNES ma che devo fare qua aspetta forse ho capito no devo fare non ti riesce ad attaccare al muro no ma non si attacca al muro eh ma non tutti i muri si aggrappano ok qui doveva andare avevo intuito ma tu non stai andando a a a non c'è grappa che devo fare è il tempo cagami il cazzo che devo fare non mi fai capire belli i giochi dello SNES ti portavano a morire 27 miliardi di volte ma non c'è grappa non fa nulla in pratica quando sei su quella piantaforma ruggisci dovrebbe salire la piantaforma e poi potresti andare a destra avevo capito che dovevo ruggire però non funzionava fino a mo non 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 Sì, sì. E dai però, ma mi fai cascare proprio sopra il topo Niente, si aggrappano con una maledetta infamia Vaffanculo, cazzo No, po Ciao Alessio, buonasera Eh vabbè ma Eccolo, il livello difficile come la merda Ah qua, se cadi su quelle spine e muori diretto, perfetto I giochi che sceglie sui sì Lo dici che so io? Ah da lì che ti deve colpì per forza Eh dai però, che cazzo sti ragni Eh, il piscello che viene dal punto che non si vede Perfetto No vabbè dai, questo è un'infamia proprio No, vaffanculo No, ma è il fu Ma ha preso il fumo Ti rendi conto? Un'infamia sta roba Vedi che è tuo il castello eh Eh, punto, castello del cazzo Dai però Oh mamma mia, senza quick save Ma come cazzo fai a farlo? Devi sapere gioca a memoria, punto Uh, guarda là chi c'è Chi c'è? Mrs. Brick E chi è? Ah ma pensavo fosse Lumiere Invece mi fa male No, dicevo la tazza e la teiera Eh lo so Come si chiamano? Mrs. Brick Oh io niente, lo becco sempre qua eh La mamma E la tazzina kick Ah ok, questi non si possono rompere Perfetto Allora mi sa Questo si fa così Guarda là va Devo salì sulla No vabbè Cioè io ci so giocassi i giochi Ragazzi Come si evita sta roba qua? Ma perché scendi le scale? Salta Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Tanto che il gargoyle non sa che si sveglia No vabbè sto piando danni proprio così A cazzo di cane Vabbè Sta roba come si schiva Ma si Bravissima Vieni qua A cazzo di madalà se non mi deve colpì Vedi che giù c'è qualcosa Giù dove? Tu adesso sei saltato a sinistra Qui sotto c'è qualcosa Dall'altro lato a sinistra Ma questo forse gli devo saltare sopra? Sì No Ma allora si aggrappa Porca miseria Come cavolo si fa? Ah ok l'ho fatto Gli hai ruggito contro per caso Sì Ho spaventato così tanto che si è immobilizzato Ah cazca pure subito Perfetto Ma perché cazchi subito? Ma no ma manco il tempo di salto ragazzi Nooo Era meglio se sceglievo la carica di 100 Scusi io te l'ho detto che giochi dello SNES sono difficili Ma perché non mi dai il tempo? Cioè come ci salto sopra casca Dammi il tempo Eh guarda Sì vabbè qua Sì vabbè ma ti rendi conto che ti fanno fare sto gioco E questo è il terzo livello Eh vabbè facciamo pure i danni Vai Che poi una besta si fa male per il candelabbro Dai Che cazzo Eh il fuoco Eh il fuoco Quella ha paura del fuoco Sì ma quella ha pure paura del fuoco Mi ricordo Eh dai però Non è che ha paura del fuoco Vuoi di affestire la luce E non vuole per curare tutti gli specchi Perché non vuole vedere il suo aspetto orrendo Gioco impossibile Impossibile sto gioco Eh dai salta Dio mio Eh vabbè ciao Cioè mamma mia Gioco del cazzo dai Proprio assolutamente No niente Scivola addosso a quel coso Non c'è sta niente da fa Niente da fa Guarda guarda Mi stanno facendo impazzire E' più facile doom eterna Alla ultra incubo Non scherzo Te ridi Ma è più facile No F2 Ma fa un mo Uva fa un mo Io voglio morire Questo gioco è l'antitesi Proprio Ma io lo sapevo Io lo sapevo Che poi ti mettono pure il tempo Proprio perché Dice capito Non basta il gioco difficile E soffrire Perché ti muovo pure Come si fa Come si fa A pensare A una Una roba così Malefica E Grappati 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 Grazie a tutti. Ah, se scopre non muoiono nemmeno, perfetto Ho fatto un po' un'esplorazione del livello Un po' non ce la fate, è logico e forza Guarda là, va Ma non mi sbaglio, questo già stava fra gli ultimi livelli Gusto? No, la scopa la devi evitare per forza Dai però, ti fanno sta roba qui Pensavo dovessi prendere, c'era una corda qua Oh, il quadro si è risvegliato Va tutto a questo, ta, 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 ok La chat non reagisce manco per il caso Si vede che lo stanno apprezzando sto gioco Ah, questo si muove, va dai Voi che ne pensate, raga? Dico, la chat non sta proprio reagendo Nooo, mannaggia, mi sono tornata a scudda Ok, questo cammina Sono gli elementi che attaccano? Si C'è Ehi Mi spieghi là come si salta quella parte lì L'ho fatto, l'ho fatto Eh dai però Finito! Siii Quanti livelli sono? Non lo so, bro Sei a circa 8-9 minuti di gameplay Dai video che ho visto Su 30 Su 30 Su 30 non lo sapevo ma stai candele come so fastidioso mi hanno messo proprio per rompere il cazzo al giocatore no e dai come on, grazie Qua il danno me lo devo prendere per forza, è impossibile avanzare senza Pure qua mi sembra che... Ezzo un pagacchio Foto qua mentre la mania si sono fissi La mania si sono fissi Per il piano e l'impasto Per il piano? La mania si accruta Per fare la mania si ferma Ti sta piacendo questo gioco Susy o ti senti di aver sprecato 100.000 punti? No, no, a me sta piacendo E beh, certo, perché quello torturato a giocarci so io e non tu Dai, perché è brutto È estremamente difficile, senza quicksave non l'avrei mai potuto portare avanti Sì, valla, d'olte casco nelle spine Direi che non ci stanno più quei topi di merda Chissà, magari c'è il peggio di peggio più o meno No, perché sono cascato? Cioè, non ce la fanno cascare, no? Niente Lo specchio È molto indietro, ma hai visto lo specchio, tu? Uh, ce l'ho fatta senza cascare Yes Eh, sì Doom è un'ultra nightmare di cazzo Sono molto indietro Ma mi sa che dopo Doom non lo faccio Cioè, una cosa difficile alla volta L'ho fatto, ho finito un altro livello Bravissimo Ah, questo che è il boss? È un gargoyle No, chi è il cattivo della bella bestia? Gaston Gaston 18 da uccidere Ma ti colpisce lo stesso Beh, sì Praticamente lo devi immobilizzare e colpire No, eh, dai Non gli ha dato i pugni Non ci credo Non ci credo Non ci credo Ma° Dove so Ngah Ho Campano Ho Lo Il Lo Lo Ho Ho Lo Lo Grazie a tutti. Perché non si è immobilizzato? Difficile sto livello. No, no, no. No, no, no. Secondo me lo devi immobilizzare col tiro. No, no, no. 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 Ah, il piepistrello. Chi l'ha visto? Ma dai, il pugno invece di fare... Oh, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ogni mezzo sono invulnerabile no vai 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 no cazzarola sull'acqua non cammino ho visto io male ma qua si muore proprio easy no dai se non finisci per il salto ti ci butta la rana nell'acqua ma ti rendi conto ti rendi conto di quanto è infame sto gioco ho appena visto si che li spinge indietro ok devo ritornare indietro praticamente ok sempre colpa di ste femmine o ragazzi ma era il caso che quella se ne andava nella notte solo lei mezza ai lupi ti rendi conto o tu non ti rendi conto di quanto è infame mi dispone ma la sciata è proprio totalmente morta proprio dai però è bello sto quadro della neve ui lupacchiotto ui lupacchiotto ma è un rombero cazzo vivistrelle e me no dai nell'acqua sono andata a finire ma sotto c'era la vita però aspettavanti mamma mia cari ragazzi ma bene ah ah vada tu si scampa si scampa ne perdevi 200 per prendere sta vita qua praticamente guarda guarda che infami però i le stalattiti da sopra eh ma che cazzo fai ma delira cioè di cosa stiamo un attimino parlando si è buggato ma aspetta cosa ho capito eh non casca in acqua eh dai moriamo vediamo che succede ma perché fa cioè mi spieghi perché perché me lo spieghi che hanno fatto c'è non lo so è una trappola allora a suo posto cioè fatemi capire ti rendi conto che cazzo hanno fatto questi qua no vabbè no vabbè moriamo raga perché cioè so che dirvi ma io direi finisci in livello in basso sì no eh ma per finirlo devo per forza fare così magari magari non cade non casca in acqua cioè vedi un po' quella vita ti è costata una vita comunque una vita comunque ma chi l'ha fatto sto gioco ancora neve che palle devi trovare bed che palle in che palle che palle che palle dai chi te lasciate siete ancora sveglia aiutatemi possiamo andare solo tu su livello si io così sembra l'ho richiesto io nooooo presumo che tu sia morto ma ancora non lo vedo ah si ecco la caduta è impicchiata comunque è a livello breve oh e basta con questi pipistrelli ah via da qua via da qui cos'è sto gioco la bella e la bestia alessio altro che doom ultra nightmare gioca di la bella e la bella e la bestia senza senza quick save ah è così carino sto gioco se non fosse pure infame come la merda sarebbe ancora meglio però non lo so io non lo so non lo so non lo so andron bro cazzo ma beh se cosa fa ferita la ranogna io mi abbrè a la ranogna la ranogna la ranogna vado alla va posso capire l'uco mia ranogna no no vabbè nooo mannacci il work giudo bastarda da infame la ranogna la ranogna la ranogna che c'era una bestia non c'è la miseria ma no non è che ci uccide di spingere in acqua eh si la chiave c'è un buff e che cazzo ma chi ti dà ordine di saltare così vabbè ah ah la ranogna è merda ma qua devo andare solo sotto la vuoi una brutta notizia? cosa? dopo dovrei affrontare i lupi grossi devo affrontare? i lupi grossi eh lo so lo so lo so me lo ricordo nel gameplay che abbiamo visionato c'è un sacco è molto più facile dell'altro boss è già morto facilissimo questo non scappare più basta ah ma è ferito giusto che dici lo lascia morire se ne prende cura se ne prende cura sempre più vicini oh che carina la bestia per conquistare il cuore di Belle cerca un regalo gli uccellini si una cosa bella oh finalmente un po' di luce colore io ce l'avevo questa videocassetta era uno speciale della Belle e la Bestia dedicato al Natale era una videocassetta a parte però che devo fare? penso devi prendere le palle di neve bello sto gioco eh è un po' difficile perché hai ricominciato? perché hai perso come? sopra uscivano le palle che avevi mancato ma come si prendono? eh te le devi far cadere nelle jumper difficilissimo beh però è carino eh ma è difficilissimo cioè è la cosa più difficile del mondo è più difficile del gargoyle è più difficile del gioco non ho mica capito come si fa niente te le devi far cadere nelle zampe non addosso quando purgi le zampe in avanti non so che che basta sì no l'ho fatta? no esatto così la cosa non si fa per accontentare una femmina O no? Che senso? Che sta raccogliendo le palle di neve che lei le lancia Uè ciao vabbè buonasera Mi ha dato la vita No Ancora Eh si Come va? Sto soffrendo con un gioco difficilissimo Esagerato È il gioco più difficile del mondo Esagerato Eh dai guardali Ma perché non la ferra? A volo non le prende Ho guardato la chat Non ce la so Ho capito come devo fare Ok No Ok Sì ho capito dove deve finire la pallina Delle zampe? Sì ma dico come afferrarla senza farla cadere ogni volta Deve cadere davanti a me Eh perché deve cadere davanti a me Ho capito il modo eh Puoi fare uno shoto a Tino a virtual channel 1 No canale di Alberto Che è raccontato? Ottimo canale di retro gaming ragazzi Persone fantastiche Bellissime Amorevoli Lodevoli No Ci ha buffato tra poche palle però eh Ma figurati Vabbè Tu mi racconti Allora ste novità Io voglio sapere le novità del canale però Tra Giuseppe che mi tiene sulle spine per la questione di Predator Tu che hai detto Tante novità Eh ma non si fa così Ah ho finito il suo strazio Tutto la vita Tutto la vita Tutto la vita Combatti contro i libri eh Viva l'ignoranza Invece di leggerli I libri Che fai Oddio ti cadono anche i libri addosso Viva l'ignoranza Lei è ignorante? Certo Bravo Non studi Mi guazzi nell'ignoranza Mi raccomando Se hai dei figli Non li mandi a scuola eh Ti sta garbando questo gioco Ma Non più di tanto Sincero eh È carino È comunque un genere Che a me piace Questo Però Diciamo che Il fatto che debba ricorrere A troppi quick save Mi disturba Lo sto guardando con l'ottica Del Se avessi avuto Lo snes Avresti bestemmiato No ma Probabilmente Non l'avrei mai finito Guarda che non ti manca tanto Eh lo so che è quasi finito Eh lo so che è quasi finito Nooo Poi ci vorrebbe una persona a fianco che preme Prema F2 Da Da Ah Sì No ma che cazzo A voi sta garbando sto gioco? Sì No ma che cazzo 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 Faccio un po' di bullismo in chat Dite sì se no vi banno Sì perché l'ha scelto lei, capito? Perciò dice che è bello, ma secondo me se lo giocasse direbbe Ah, accettami questo gioco Io lo riscattavo per guardarlo, non per giocarlo Beh Perciò dici che ti piace Perché se dovessi giocarlo diresti di no Guarda com'è carina la bestia Ho capito come farlo Nooo Nooo Ah, c'è il libro Il libro fermo Nooo 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 bello Almeno chi conosce il gioco Però Diciamo che esplorare Ti costa la vita Salvanti E qualcosa un po' Un po' un po' due no Ancora libri? Ops, che gargoyle! Ah, ma questo... Ah, ok. Ok, non si blocca, perfetto. Ma adesso ho capito come si uccide. Sì, però, cazzo. Mamma mia, ce l'ha fatta. Ah, restano pure le fiamme a terra, perfetto. Dai! Sì, sì, ho capito come si uccide. Una battaglia l'ho data. Mamma mia, ma ci si può neanche avvicinare. Non ci si può neanche, ma ci si può neanche avvicinare. evitare di prendere botte è impossib... eh che cazzo manca una fiammetta salti Infintare il numero sarebbe e nelle correte A la lezione con una orella Infintare le punte DX inizio Quizete No Quizete 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 Grazie a tutti. 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 No! 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 Ma mia quanto è difficile stile! beh, il filo elettrificato è veramente infame ok, credo debba saltare lì, quindi no, perché non è salito? danni a sti cazzo di pipistrette, no fine, ce l'ho fatta non ce l'ho fatta ma avete già la mia presenza, dai non era l'ultimo, su, sì c'è anche l'amico di Gaston no, non era l'ultimo, ti ho detto che l'ultima parte non che era l'ultimo quadro te lo ricordi l'amico di Gaston? no chi è questo? quello che spara con la pistola me ne so accolto che spara con la pistola si chiama Lefou Lefou? Lefou, sì quello è Gaston invece eh beh, questo sì, lo conosco ah, quindi questo funziona a scendere, vabbè eh dai però, ma hai visto Gaston quando fa col braccino così? per dire, sono troppo forte e muscoloso che qua dovevi pure imparare ma che lato ma dai, ma con sta freccia è impossibile schivarlo guarda, ti giuro eh dai, ma perché? ah, ma ok quando tira l'arco lo devo solo schivare perfetto perché infatti non lo colpisce guarda, ti è arda Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dai però, ma che cazzo. Se provo a scendere normalmente devo fare così per scendere praticamente. Ecco, mi sono confuso i pulsanti. Sì. 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 Ma è difficilissimo. Io non dati tu vuoi. Sì. 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 Che preve ma molto molto infame, questo nome giallo. Non era Vincenzo De Luca. No. Era Gaston De Luca. Il 1994. Avevo cinque anni, ragazzi. Io due. Eri ticcola, ticcola. Eri ticcola, ticcola. Tu zero. Una bestia. Tu quanti anni avevi nel 94? Vabbè. Addirittura il 91. I diritti vanno al 91. Puoi staccare, me è felice. Ah, quelli sono i diritti delle canzoni, sì. Ah, no, vabbè, vediamoci. Ho sudato per fare il soggiorno. Avevi tre anni, eri ticcola, pure tu. Eravamo tutti piccoli. Siamo tutti vecchi, po'. Tutti vecchi. Siamo tutti vecchi. Albi, siamo tutti vecchi. Parla per... Timbello si chiama il. Bob Timbello. E' vecchio pure tu. E' quello che fai, gni, 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 gni. E' vecchio. Sei vecchia. Thanks to me. Me, che mandi? Me. Tony Ancona si chiama quello? Ta-ra-ta-ta-ta. Ta-ra-ta-ta-ta. Bye for now. Ma for now, bye forever, bye for now. Bye forever, bye for now. Bene, spero che Susina sia felice. Perché io ho completato un altro gioco che lei mi ha richiesto, quindi occhio al prossimo, però, eh. Anche se già so quale altro gioco mi chiederà. Che cosa ti chiederò? Che se ce l'avevi in mente mo, lo so, lo, 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 non l'hai fatto mo, lo fare la prossima volta. Che è quello della carriera recente mo. Sicuramente. Vabbè, basta che tu ti diversa mentre io mi torturo a giocare. Comunque ragazzi, ci vediamo a breve live o al prossimo gameplay. Questo è stato, credo, il mio primo vero approccio allo SNES. Perché non l'ho mai avuta come console. E il battesimo? Battesimo no, perché comunque credo che, sì, l'ho in passato, l'ho giocata a casa di persone. Però che finisca un gioco è stata assolutamente la prima volta. La migliore implementazione della Bella e della Bestia è su Kingdom Hearts 2. Kingdom Hearts forse è una saga che comincerò, eh. Perché sulla Play 2 ce l'ho il modo di procurarmelo. Anche se è la versione Platinum, però vabbè. Ma niente. Per 5 euro si può fare. Comunque, prossimo gameplay, quindi un mega skull. Digli anche tu il skull, Susi. No, dillo bene. Più forte. Skull. Bravo. Insomma. Sì. 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 Grazie a tutti.